Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpalo. Oggi martedì temporaneo miglioramento sulla Liguria, ma già da domani mercoledì aumento delle nubi e prime precipitazioni per l'arrivo di una perturbazione dalla Francia. Il dettaglio, oggi martedì 16 agosto, sereno poco nuvoloso lungo la costa, addensamenti cumuliformi sui rievi e zone interne. Venti deboli meridionali in rotazione da settentrione agli estremi della regione. Mare poco mosso, temperature massime in aumento lungo la costa tra 28 e 30 gradi nelle zone interne tra 29 e 31 gradi. Domani mercoledì 17 agosto, nuvolosità in aumento dal mattino, attività cumuliforme sui rilievi e zone interne nelle ore centrali con possibili fenomeni associati. Venti in prevalenza settentrionali fino a localmente forti, mare in aumento fino a mosso, temperature minime in lieve calo lungo la costa tra 20 e 23 gradi nelle zone interne tra 16 e 18 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 28 e 31 gradi nelle zone interne tra 27 e 32 gradi. Dopodomani giovedì 18 agosto, condizioni di instabilità per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica con rovescio temporali dalle prime ore del mattino possibili su tutta la regione. Venti settentrionali fino a moderati, attenuazione e rotazione da meridione. Mare mosso ovunque, temperature minime in aumento lungo la costa tra 23 e 25 gradi nelle zone interne tra 18 e 22 gradi. Massime in calo lungo la costa tra 27 e 30 gradi nelle zone interne tra 24 e 29 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!